Il Consiglio regionale approva all'unanimità una mozione che vede come primo firmatario e il Presidente Antonio Mazzeo è la firma di tutti i capogruppo. Una mozione unanime che come obiettivo ha quello di valutare azioni legali contro Pfizer-BioNTech per ritardi nelle forniture. La Giunta regionale quindi dovrà continuare a monitorare l'organizzazione inerente alla fornitura delle dosi di vaccino per i cittadini toscani e attivarsi qualora si registrassero ritardi rispetto agli accordi stipulati in sede comunitaria. Ho dato fin dall'inizio forte solidarietà al Commissario Alcuri e al Governo nelle azioni che possono essere intraprese proprio sul piano dei vaccini e della loro fornitura. Sono convinto che sarà molto importante in futuro avere quella capacità anche di realizzare da soli in Italia i vaccini perché vediamo che in queste situazioni di emergenza, in una situazione così delicata o le cose le fai da solo o altrimenti ti trovi in questa situazione di dipendenza da altri con gli inevitabili contraccolpi che vanno sulla salute pubblica nazionale come in questo caso la diminuzione dei vaccini Pfizer. L'idea di una mozione trasversale di tutte le forze politiche affinché si possa intraprendere come Regione in accordo con il Governo un'azione legale nei confronti di quel soggetto, in questo caso Pfizer, che non rispetta gli impegni che ha preso insieme a noi. Noi dobbiamo fare in modo, e questo lo chiediamo anche all'Europa, ho apprezzato molto le parole della Presidente della Commissione, Van der Leyen, che diceva con grande chiarezza che i patti vanno rispettati. Quindi l'impegno che noi oggi abbiamo preso come Consiglio regionale è quello di essere attenti al tema, di spingere il Governo affinché parta questa azione legale per fare in modo, non perché vogliamo metterci contro chi produce, ha fatto uno sforzo enorme per trovare il vaccino, ma perché vogliamo dare risposte alle cittadine e ai cittadini della Tostana, garantirgli il diritto alla salute. Abbiamo sottoscritto l'iniziativa del Presidente Mazzeo, abbiamo portato anche il nostro contributo, volendo sottolineare come in Europa ci siano altri Stati, non l'Italia, che in realtà hanno avuto invece più dosi di quanto contrattate nella prima fase di contrattazione. Quindi c'è qualcuno che ha avuto più dosi di quelle che aspettavano dagli accordi iniziali e ci sono Paesi come l'Italia e nella fattispecie la Toscana che si sentono dire da un'industria farmaceutica straniera che non ci daranno le dosi che avevano garantito di darci. Quindi la situazione è difficile. Io spero che la Regione Toscana, ma non solo, l'Italia tutta si costituisca in questa azione legale contro Pfizer e quindi l'appoggio di Fratelli d'Italia è inevitabile. Loro devono fare interessi di mercato, i governi invece devono fare gli interessi della popolazione. Allora io mi rivolgo ai sovranisti, ma anche a quelli che si dichiarano di sinistra. Questo è il momento di fare una scelta forza. Facciamo produrre il vaccino alle nostre aziende utilizzando questa possibilità della licenza obbligatoria. quindi in pratica rompendo un po' con le regole. Del resto è stata Pfizer a rompere gli accordi che già erano molto pesanti per il governo, contrattuali nei nostri confronti, rischiando di creare un problema veramente serio per quanto riguarda quell'immunità di Greggio che si allontana. Non ci bastano le giustificazioni, per questo chiederemo. Abbiamo ottenuto che la Regione Toscana sia costituista parte civile nei confronti di una impresa, di una multinazionale privata che aveva sottoscritto un contratto e che quel contratto deve mantenere. Perché ne va del piano vaccinale, quindi si vaccinerà più in ritardo. Ne va anche della ripresa economica, anche perché più tardi si vaccinano le persone, più tardi arriverà la ripresa economica. Per questo noi siamo, come dire, grati al Presidente del Consiglio regionale, Mazzio, di aver portato in Consiglio regionale una nostra proposta e siamo stati i primi a chiederlo. Il comportamento di questa azienda è veramente un comportamento grave che rischia di penalizzare quello che è il bene primario dei cittadini e anche dei toscani, ovviamente, vale a dire la salute. Quindi l'auspicio e il sollecito che rivolgiamo è che si faccia tutto in tutte le sedi affinché Pfizer riprenda la fornitura dei vaccini così come si era impegnata a fare ed eventualmente abbia quelle penalità se sono previste e possibili da applicare che si merita. È una mozione che chiede di fare luce, fare massima attenzione e velocità che chiede rispetto per gli impegni presi con la nostra regione. Bene la notizia di oggi dell'arrivo di 29.000 dosi e bene che vengano mantenuti gli impegni. Serve essere tempestivi, essere puntuali, rispettare i tempi della fase 1 e serve anteporre alcune esigenze particolari in primis quello degli insegnanti che è una categoria che noi vorremmo vaccinare quanto prima insieme al personale sanitario. Cos'è la memoria oggi e come possiamo darle valore? La memoria non serve soltanto per ricordare ciò che è accaduto ma deve essere un vaccino contro ogni ritorno di quella disumanità liberticida. Così parte l'intervento del Presidente del Consiglio regionale della Toscana San Antonio Mazzeo in apertura di seduta solenne nel giorno della memoria tenutasi martedì 27 gennaio. Il germe della memoria vuol dire far fiorire, far germogliare fiori nuovi, fiori di speranza. Io lancio solo un messaggio alle ragazze e ai ragazzi toscani. Non siate mai indifferenti perché quello che è accaduto può accadere di nuovo. Non voltatevi mai dall'altra parte quando ci sono sopprusi, quando ci sono cose che non funzionano. Mantenete sempre alto l'ideale che ha fatto di questa terra, della Toscana, il luogo in cui davvero si è combattuto contro le tragedie e le barbarie di quel periodo. Il nostro simbolo, che è il nostro Pegaso, nasce dall'esperienza del Comitato di Liberazione Nazionale. Il nostro Pegaso è esattamente il motivo per cui oggi noi ricordiamo questa giornata. Piedi ben saldi nella nostra storia, nei nostri valori, nelle nostre tradizioni, ma le ali che guardano al futuro per fare in modo che quello che è accaduto non accada mai più. La giornata della memoria sta sempre più rappresentando un momento di diffusione, promozione di quello che è una cultura della memoria, indispensabile perché quello che è accaduto negli anni 45 e quelli che precedettero, la fine della Seconda Guerra Mondiale non debba più accadere. 47 milioni di morti, 6 milioni e mezzo sterminati, ebrei, omosessuali, sinti, disinzierti politici. La cultura del totalitarismo portò a una malvagità che mai abbiamo avuto nella civiltà umana. E il vaccinare, il rendere immuni i nostri giovani da quei valori, quei disvalori, è un elemento essenziale nel ruolo, nella promozione dei valori che invece costituiscono l'elemento poggiante della nostra Costituzione, del nostro vivere civile, verso i nostri giovani. Credo che siano fatti che debbano essere ricordati, che devono essere conosciuti, che devono essere tramandati nei confronti dei giovani perché non debbano accadere mai più. Ascoltare le testimonianze di chi ha vissuto ed è scampato a quegli avvenimenti. I pochi che sono tornati da un campo di concentramento, come la senatrice Liliana Segre, che ha raccontato e racconta nelle sue testimonianze di come le persone entrate lì dentro sono private della dignità prima ancora che della vita, diventano un numero, dimenticano il loro nome. Credo che la Toscana fa bene, è sempre stata molto attiva nel custodire questa memoria, nel farla vivere e nel tramandarla. E io, proprio ieri, sono andato nel mio comune a firmare la proposta di legge e di iniziativa popolare promossa dal sindaco di Stazzema, altro luogo della nostra memoria scolpita, una delle più grandi stragi che sono avvenute nel Paese e che sono avvenute in Toscana, per colpire duramente quelli che fanno apologia del fascismo, quelli che promuovono una ideologia che è stata ovviamente al servizio e a fianco del nazismo. E credo che questa vada perseguita in tutti i luoghi, anche nei social network, dove i nostri ragazzi, i nostri giovani li affollano forse più di ogni altro luogo. Anche questo significa salvaguardare e nutrire una memoria e questo è un nostro dovere. Il tempo inevitabilmente ci sta sottraendo i testimoni di quella memoria terribile che ha macchiato l'Europa e direi il mondo intero per quello che è successo. E quindi noi adesso abbiamo l'onere e l'onore di portare quella testimonianza che è innanzitutto memoria, ma non memoria a fine a se stessa. Memoria che deve essere poi rielaborata anche nel nostro quotidiano perché ci insegna a riconoscere quei segnali che ci fanno capire che quel tempo può ritornare. Perché nessuna libertà, nessun diritto si può dire acquisito per sempre. Ecco cosa ci insegnano questi giorni, ecco cosa ci insegnano i testimoni. Soprattutto riportarlo nella modernità di oggi, quando i social, i media, la comunicazione è potentissima. E sappiamo bene la comunicazione e quanto ha significato nel spargere l'ideologia che sino chiamiamo nazista, ma che come ci hanno ricordato oggi il professor Gozzini e Ugo Caffaz ha macchiato inesorabilmente anche la storia italiana di quei decenni. Memoria che deve essere continuamente portata avanti, concretizzata. Lo dico con forza, ci sono in Europa troppi segnali negativi. Ci sono regurgiti fascisti, nazisti, anche in Italia. Pochi giorni fa, ad esempio nella mia Arezzo, nella passeggiata virtuale nei luoghi della tradizione ebraica, è stato aggredito il giornalista Marco Botti. Solo per fare un esempio. Queste sono cose che vanno biasimate, vanno condannate con la massima determinazione. Ma è più fascismo, ma è più nazismo. Compito degli insegnanti è quello di non fare altarini e di non scadere in celebrazioni. Dobbiamo fare sempre domanda alla storia. Questo è il senso dell'intervento di Giovanni Gozzini, che ha inteso spiegare come anche sotto i regimi totalitari ci potesse sempre essere una via d'uscita. È una storia che abbiamo saputo da poco, relativamente poco, perché sono 1.600 ebrei nascosti da altre tante famiglie tedesche nel cuore del Terzo Reich, cioè dentro la città di Berlino. Loro si chiamavano U-Boat, scherzosamente. I U-Boat erano i sommergibili della Marina Militare tedesca. Indicava il loro stare nascosti, sommersi, per non essere catturati. Sono la minima parte della comunità ebraica di Berlino, era 160.000 persone, quindi lo 0,1%, però ci dimostra una cosa, è fondamentale trasmettere ai ragazzi, e cioè che anche sotto il regime totalitario, più sanguinario e oppressivo, anche nel cuore stesso di quel regime, cioè nella sua città capitale, a poche centinaia di metri dalla cancelleria del Führer di Hitler, era possibile comportarsi in maniera diversa. Si può sempre scegliere di non arrendersi al regime. Quindi da insegnante, come trasmettere ai giovani gli anticorpi necessari per non rimanere sopraffatti? Cerchiamo noi, insegnanti, di fare questo mestiere, cioè insegnare ai ragazzi a pensare con la loro testa. La lettera che manda al figlio, il comandante del campo di Auschwitz, la notte prima di essere giustiziato, dice che l'errore più grande che ho fatto nella mia vita è stato di credere ciecamente a tutto quello che mi veniva ordinato dall'alto. Se lo dice lui, possiamo dirlo ai nostri ragazzi. Cioè, per noi educatori è un'arma a doppio taglio, no? Perché gli dobbiamo insegnare anche a non avere fiducia preconcetta nei nostri confronti, ma sempre a pensare con la loro testa e quindi a criticare quello che noi diciamo. Se una scuola riesce a fare questo, lo diceva già Don Milani, è una scuola brava. Nel giorno della memoria ha consegnato anche una targa dal presidente Mazzeo a Basilio Pompei. La consegna attraverso il figlio Giuliano è un messaggio per tutte le cittadine e cittadini della Toscana, un messaggio per ricordare 650 militari deportati e per testimoniare a Basilio che i terribili e vergognosi attacchi che ha ricevuto sui social all'indomani della sua vaccinazione non rispecchiano i valori e l'identità della nostra regione, così il presidente del Consiglio Antonio Mazzeo. Quell'atteggiamento da parte di tanti cittadini che lo hanno offeso perché è successo questo attraverso la rete, in un'istituzione democratica come la nostra non si deve mai sottovalutare, perché io dico sempre una cosa che coltivare il seme della memoria, ed è non è a caso che abbiamo scelto di dare questa targa oggi, nel giorno della memoria, coltivare il seme della memoria è il modo migliore per far germogliare i fiori della speranza e questa targa è un fiore di speranza che noi mettiamo a disposizione delle cittadine e dei cittadini della Toscana. Queste le parole di Basilio Pompei attraverso la persona del figlio. Io accetto questa targa a nome dei 650.000 deportati dopo che l'8 settembre avevano detto no alla Repubblica Sociale. Io ringrazio anche al posto loro. Vorrei dire soprattutto ai giovani, ai ragazzi, che questa è una giornata molto importante e che praticamente si ricordino sempre che l'odio non è il pane quotidiano e quindi gli errori che sono stati fatti prima e anche gli orrori non vengono ripetuti. Ecco, questo in definitiva è il riassunto di quello che ci siamo detti. Grazie a tutti.